Il 29 marzo, coronavirus permettendo, si terrà il referendum per la riduzione dei parlamentari da 630 deputati a 400 e da 315 senatori a 200. Beh, questa è la realizzazione dello slogan anticasta voluto dai 5 Stelle. Oramai si procede per slogan. Io sono contrarissimo alla riduzione per un motivo molto semplice. Bisogna fare la politica con la P maiuscola, non con gli slogan, perché questa riduzione dei parlamentari creerà un danno enorme ai fini proprio della rappresentatività degli eletti rispetto al territorio. Mi spiego, se anziché avere i collegi, dico per dire alla Camera, di Taranto, Brindisi e Lecce, abbiamo un unico maxi collegio, si perde il rapporto diretto dell'eletto rispetto ai territori. Se viene eletto un brindisino, gli sarà difficile essere vicino alla realtà di Taranto o di Lecce e viceversa. Mentre prima c'era il singolo deputato per ogni provincia, più o meno, diciamo così. Quindi questo procedere per slogan non mi piace affatto. I 5 Stelle, se vogliono fare politica, pensassero a ridurre altre indennità. Quella di Casalino, ex grande fratello che guadagna più di Conte, ridurre lo staff pletorico della Corte dei Miracoli di Di Maio. I partiti tradizionali però molti hanno paura di dire no al referendum per non essere etichettati come facenti parte della casta e quindi essere additati, aggrediti, tra virgolette, dai cittadini che magari pressi così da questa ubriacatura esultano, gongolano all'idea di vedere sacrificato il numero dei parlamentari. Non si fa così politica, vogliamo dei parlamentari che lavorino per ogni territorio. Il numero, la riduzione è relativa, il numero è relativo, considerando che è vero che si risparmiano circa 80 milioni l'anno, però consideriamo anche quanto costa questo referendum.